Musica Bentornati in diretta, siamo ancora negli studi di Fano TV perché siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Primo Cittadino Do subito il benvenuto al sindaco di Fano Massimo Seri, buonasera sindaco Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori I numeri di telefono ormai li conoscete a memoria 0721 86 14 33 per intervenire in diretto oppure 338 49 68 250 per inviarci un messaggio meglio se con l'applicazione di Whatsapp Ci sono già arrivati tantissimi messaggi anche nel corso della settimana Sindaco però vorrei dare un commento su questi investimenti che la regione oggi ha annunciato sulla sanità territoriale a partire dall'ospedaletto, l'ospis pediatrico Sì, non so se vi ricordate io circa un mesetto fa ero andato proprio in regione a rivendicare un po' l'esigenza vista la nuova riorganizzazione dell'edilizia ospedaliera della nuova regione che vedeva un progetto con due ospedali, quello di Fano e Pesaro Ovviamente la preoccupazione era, visto che si andrà a realizzare un nuovo ospedale a Pesaro non si può lasciare il Santa Croce nelle condizioni attuali quindi c'era l'esigenza, c'è l'esigenza di fare una serie di interventi e quindi raccolgo positivamente questa disponibilità di risorse per una nuova struttura che si aggiunge al presente però come ho avuto modo di far notare all'assessore che a parole ha raccolto questa esigenza una volta realizzata questa nuova palazzina si dovrebbe andare alla sostituzione, demolizione e ricostruzione del resto ovviamente negli anni, non in un intervento immediato raccolgo positivamente anche le risorse destinate per l'ex ospedaletto perché ovviamente è una struttura che è da troppo tempo inutilizzata se non come magazzino e quindi c'era questa necessità e quindi questa è una notizia positiva però lasciatemi dire questo aspetto ovviamente diventa importante di cosa riempiamo dentro nel senso che sono poi i servizi veri sanitari quindi diventerà importante sul Santa Croce capire io ho già avuto modo di esprimermi ma lo faremo anche nelle prossime settimane quali contenuti ci saranno in termini di servizi sanitari dentro il Santa Croce perché poi le mura e i muri sono importanti ma quello che fa la differenza è cosa ci mettiamo dentro Ecco poi nei prossimi giorni cercheremo anche noi nel corso del telegiornale Ocranontiz di capire tutto quello che succederà nei dettagli anche insieme all'assessore Baldelli Sindaco, le strade qualche messaggio su questo argomento cosa aspettano a sistemare la via Togliatti con Da Flaminio se non hanno notato ancora la strada a lato destra rappresenta vari dossi provocati dalle radici degli alberi ci sono anche delle persone purtroppo cadute motociclisti, ciclisti eccetera le vado a raggruppare via Campanella, zona Bellocchi poi la strada che da Falcinetto porta a via Tiglio Regolo credo che siamo nella zona di Falcinetto, Mucurano sono stati fatti dei lavori di acquedotto quando si finisce di asfaltare e poi ci segnalano la strada di mezzo Metauriglia quando verrà sistemata o mamma che ha necessità di cure il personale sanitario che deve venire a casa si lamenta e non possono rimetterci mezzi ma anche come noi le retture, le rotture le paga lei poi logicamente ci sono dei problemi anche ai veicoli quindi c'è qualche di questi ci sono novità importanti che ho anticipato in parte anche l'ultima volta che ho partecipato a Primo Cittadino proprio in queste ore la Commissione sta valutando le offerte per la gara di 3 milioni e 700 mila euro di nuove asfaltature che inizieranno ad aprile lì è già stato pubblicato ampiamente l'elenco di tutte le vie ma a queste si aggiungeranno altri 2 milioni di nuove asfaltature che partiranno lo stesso per la prossima primavera-estate qui fra l'altro è già stato individuato la ditta che li realizzerà perché abbiamo già eseguito l'accordo quadro per le aziende quindi nel momento che stipuleremo approveremo l'esecutivo delle nuove strade che si aggiungeranno ai 3 milioni e 7 inizieranno anche in questo caso i lavori quindi qui si aggiungeranno tante altre vie ovviamente non riescono a soddisfare tutto il bisogno della città e del territorio ma daremo una bella risposta tra queste vie ci sono alcune richiamate poco fa Adam Patrignani scrive che al campetto da basket a Centinarola in via Monfalcone manca un canestro e dopo neanche un mese che lui personalmente l'ha cambiato hanno già rotto la rete il pavimento ha delle buche dove ci si può cadere ci si può far male quindi chiede un vostro intervento per riportarlo di nuovo agibile abbiamo una telefonata per lei se è pronta sentiamo subito che è in linea buonasera 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 Massimo buonasera prego allora ci siamo incontrati l'anno scorso se non ricordi se hai buona memoria allora io sono presidente di Cucurano e abbiamo il solito problema e tu mi avessi detto che avresti mandato qualcuno a fare un'indagine a vedere come è messa la via di casa nostra è disastrata che via è? come si chiama? manca segnaletica ci sono le buche io sono gli anni che mi batto per questa cosa però di che strada si tratta? ci dica il nome della via ma non riesco a ottenere niente è possibile da parte tua veniva a fare te personalmente un giro di ricognizione per vedere la situazione della nostra via? ok dalla regia mi dicono che si tratta di via Sorelle Morelli Sorelle Morelli sì sì c'era anche il problema di qualche pianta Cucurano sarà interessata con tutta una serie di interventi già nei 3 milioni e 7 ci sono via della scuola via adesso mi sfugge il nome e con quei 2 milioni ne aggiungeremo delle altre adesso tutta la via Sorelle Morelli non si può fare perché ci sono altre strade molto più disastrate però avevo detto che sarei passato adesso francamente non l'ho ancora fatto lo faccio e in più critica la parte della salita se non sbaglio che è il tratto della salita cioè se tu la fai tutta la via puoi notare che è trattata malissimo hai capito? ci sono le piante da portare ci sono diversi lavori io ti ripeto sono gli anni che mi batto per queste cose però non riesco a ottenere niente io ti chiedo gentilmente visto che stai dalle parti e se vieni a fare un giro e ti rendi subito conto della situazione perché proprio guarda siamo in un degrado massimo la via di sotto è perfetta noi qua su siamo all'abbandono mi dispiace dirlo ma purtroppo è così ma non è un giorno sono gli anni è massimo che siamo qui io non so più come devo fare grazie per la sua considerazione va bene prometto che passo il 18 ottobre sindaco ha detto a breve la nomina dei due consiglieri nominati dal comune ma siamo a 17 gennaio ancora niente a maggio scade il mandato della CDA ma il comune ha deliberato 130 mila euro e a maggio scade lo ripeto il CDA e chi manda avanti il carnevale a giugno le chiedono quindi si tratta dell'ente carnevalesca non capisco bene la domanda dovevate nominare i due consiglieri non è quello che fa la differenza nel senso i due consiglieri noi li avevamo nominati perché doveva arrivare doveva essere rivisto lo statuto in base a delle disposizioni della prefettura però il carnevale deve portare avanti l'attuale consiglio direttivo l'attuale ente carnevalesca che è al terzo anno di mandato poi l'amministrazione comunale è vicina adesso a prescindere dai due consiglieri ormai siamo arrivati in direttura ad arrivo quindi però noi siamo a fianco alla carnevalesca per l'organizzazione del carnevale Riapertura San Pietro in Valle quando? San Pietro in Valle è una questione un po' delicata intanto è un tesoro straordinario in questi giorni se passate anche di sera vedete le luci accese perché stanno lavorando al suo interno per la messa in sicurezza degli stucchi lì c'è un grande problema che è quello dell'umidità ascendente e che crea problemi sono problemi storici non si è capita la causa la fonte di questa che ovviamente arriva dal sotto ma quale sia la causa che scatena questa umidità che sta creando tanti problemi e anche tanti interventi realizzati poi rischiano di svanire in poco tempo quindi adesso fatto questo intervento sentiamo cosa ci dicono l'obiettivo è quello di poter riconsentire le visite già per questa estate e con la variazione prossima variazione di bilancio che andrà al prossimo consiglio inseriremo altre risorse per inserire applicare delle apparecchietture che non si notano l'abbiamo già sperimentato nel teatro della fortuna che dovrebbe bloccare ma non risolvere il problema bloccarlo dell'umidità quindi con l'arco di un anno asciugare le pareti nello stesso tempo affideremo un incarico di progettazione della riqualificazione ristrutture del restauro complessivo della della chiesa di San Francesco e parallelamente insieme ad altri soggetti università cercheremo di capire quella che è la causa la fonte di questa umidità è un problema non semplice da risolvere perché sono anni anni già prima che arrivassi anch'io come sindaco però ecco nell'immediato c'è questo lo stanno già lavorando applicheremo abbiamo già il preventivo la ditta che lo fa perché è un brevetto quindi non dobbiamo fare una gara solo l'affidamento le risorse le abbiamo già individuate al prossimo consiglio come dicevo la variazione di bilancio e poi provvederemo a questo intervento sperando di poter riconsentire in sicurezza la visita della chiesa ci segnalano alla focce del Metauro le canne sono da tagliare poi via Metauriglia mancano l'illuminazione la tabella che indica la via e l'asfalto l'hanno fatto i residenti e le chiedono ancora perché in via Papiri al lato nord della rotatoria che va nella superstrada è sempre ben pulita con potatura di lecci potatura dei pioppi e sfalcio dell'erba mentre il lato sud di via Papiri è una mangrovia mai pulita volevo sapere perché noi di Tre Ponti ci dicono paghiamo le tasse come residenti del Vallato e di Sant'Urso ci sono un po' di potature da fare le regole le regole sono uguali per tutte lì probabilmente era intervenuto anche la società autostrade quando aveva realizzato ancora perché il passaggio complessivo di tutte le opere non è stato completato quindi probabilmente c'è un intervento anche di questi e l'altra domanda che mi sfugge via Papiri che praticamente la fanno a metà alla focce del Metauro le canne che sono da tagliare per la focce del Metauro sul Metauro sono previsti altri interventi mi l'ha comunicata anche la regione la settimana scorsa quindi anche su questo interverremo su Metauriglia stiamo facendo un lavoro importantissimo adesso breve lo comunicheremo abbiamo affidato una serie di progetti che riguardano la ciclabile di Metauriglia una serie di interventi anche alcune asfaltature riguarderanno lo richiamavate anche prima alcune strade quindi c'è un'attenzione forte in quella parte della città per favore sindaco per la terza volta è più di un anno di attesa noi residenti del centro storico attendiamo soluzioni come da voi promesso per i parcheggi dopo aver tolto via Le Gramsci e ora pure via Negusanti alla scorsa puntata rispose che la Tonelli era in gravidanza ora per favore non ci prendete in giro prendiamo le multe per parcheggiare per andare a casa quindi questa rivoluzione dei parcheggi mette un po' in difficoltà i residenti del centro storico il problema vero del nostro centro storico ovviamente il tema è quello dei residenti non è di quello che vanno vogliono andare a fare una passeggiata in centro l'anomalia è la presenza un po' sproporzionata tra stalli bianchi e blu e su questo onestamente va fatta una scelta di campo se così mi si consenta nelle altre città vicine a noi si è fatta la scelta di tutti i stalli blu con delle regolamentazioni e dei abbonamenti delle riserve per i residenti quando invece mentre fanno gli stalli bianchi al di là di quello che si dice ma se si vanno a contare numericamente sono un numero significativo sopra la media rispetto alle altre città poi su Valle Gramsci non è che sono stati tolti i parcheggi sono stati inseriti stalli blu che da una parte hanno consentito una maggiore rotazione e questo è positivo dall'altro ovviamente ha creato dei disagi ai residenti cosa diversa per via Nigusanti dove si è fatto un lavoro per me bello in sicurezza che poi alla lunga andare verrà apprezzato dalla gente e sono tutti bene alcuni stalli ma adesso non è che parliamo di numeri in quel caso significativi poi c'è il tema sulla quale stiamo ragionando adesso non posso anticipare alcune cose perché le stiamo esplorando però penso che per qui a un mese potrò dire qualcosa di più preciso stiamo facendo delle operazioni che possono prevedere anche degli interventi che vanno in questa direzione con un numero significativo di nuovi posti auto sempre per il centro storico non trovo il messaggio comunque chiedevano informazioni sulla fontana che è in stato di degrado e sul parcheggio dell'exagip sì la fontana sarà restaurata c'è un intervento di quasi 200 mila euro richiede un po' di tempo quest'anno? quest'anno quest'anno sì sì ok exagip exagip lo stesso adesso stiamo affidando la progettazione definitiva e poi quella esecutiva per poterla appaltare perché abbiamo già il finanziamento fra l'altro un finanziamento che ci è arrivato dallo Stato che utilizziamo per questo e dovremmo farlo entro il 2023 per cui ci siamo lì c'era stata una modifica però al progetto sì no c'era stato un primo progetto che non ha trovato l'accoglienza sia di parte del maggioranza ma anche in alcuni incontri per cui abbiamo deciso di rivederlo adesso stiamo attribuendo un nuovo incarico per cui il tempo materiale e amministrativo per poter realizzare il progetto e poi appaltarlo siamo contenti per quello che fa il sindaco per la città però Cucurano sulla nazionale il marciapiede serve davanti alla BCC specialmente per i più anziani perché ci sono delle buche e si cade poi potrebbe farsi carico le chiedono anche dei vari problemi che sussistono a Carrara centrale elettrica ampliata in estate non si può stare con le finestre aperte per il rumore che fa la cava rimasta lì come senza una fine una conclusione il famoso lago anche quello meglio non parlarne e per ultimo il fossicciattolo vicino a casa Betlemme pieno di erbacce in inverno rischiamo di trovare i garage pieni d'acqua e in estate le bisce intanto andiamo con questi due sì quindi erbacce Carrara ex cava elenco su Carrara gli interventi sono stati diversi in questi anni e continueranno quello della centrale non è un tema semplice e va al di là delle nostre competenze perché sulla centrale come sapete non interviene il comune lì c'è anche un ragionamento nuovo che vede il raddoppio della distribuzione del adesso non ricordo come si chiama del canale della distribuzione della luce che andrà fino in Abruzzo se ne è parlato anche recentemente in più occasioni perché ovviamente c'è stato anche tutto un tema di partecipazione pubblica quegli interventi vanno a portare anche delle soluzioni di copertura perché si parla di invece oggi abbiamo corrente alternata e lì diventerà continua è un lavoro di un miliardo che andrà tutto sottoterra e tutto via mare quindi non creerà alcun problema però ecco sulla centrale noi onestamente possiamo poco sono decisioni che passano sopra la nostra testa sul fosso noi per quello di nostra competenza siamo intervenuti in più occasioni ricordo prima di diventare sindaco che lì era sempre in una situazione di degrado abbiamo fatto diversi interventi è chiaro che non siamo in grado di farne 4-5 all'anno quindi quando ci avviciniamo alla primavera inizieremo a rifare tutta la pulizia hanno chiamato regia per sapere PNRR quali progetti per Fano? sì allora sul PNRR questa ormai è una parola che ci portiamo dietro in ogni conversazione che facciamo allora anche su questo dobbiamo tenere i piedi per terra non è che il PNRR avrà risorse per tutti i desideri di tutte le città italiane noi ci siamo attrezzati c'è una cabina di regia guidata dal sindaco sulle sei missioni e siamo pronti nel senso ci siamo attrezzati tutti i rinchiari che stiamo dando in questo periodo sono proprio per le progettazioni in attesa dei bandi che usciranno perché poi come vengono distribuite queste risorse il governo fa delle gare dei bandi e noi parteciperemo noi abbiamo già individuato tutte le possibilità su cui c'è più che di possibilità dei desiderati che abbiamo su cui siamo pronti e sono quasi al 90% adesso stiamo preparando entro il 15 domani scade alcuni bandi per le scuole anche qui abbiamo presentato molti interventi sia di carattere sportivo legate alle scuole sia per le scuole stesse quindi su ogni missione ci siamo come dicevo attrezzati e speriamo insomma di poter ottenere il risultato migliore per la nostra città però su questo vorrei sottolineare un aspetto che vi ha fatto molto arrabbiare che ho posto l'attenzione ai vari livelli questo nostro è un paese strano non sempre si tiene conto delle reali esigenze dei territori e delle popolazioni e noi abbiamo già pagato un limite rispetto anche realtà vicine e cioè che troppo spesso ci sono canali riservati soltanto alle città capoluogo fanno che la terza città delle marche non essendo città capoluogo non ha potuto partecipare ad alcuni bandi e ad altri come l'ultimo con un tetto massimo che è esattamente la metà degli altri e ci sono poi dei paradossi che ci sono realtà pure importanti per il loro valore storico culturale per esempio adesso non voglio far polemica perché io non sono per togliere a nessuno sono per dare però ci sono dei paradossi tant'è che fortunatamente si sono arrabbiate anche le città metropolitane Milano Roma perché paradossalmente Milano è nelle stesse condizioni di Urbino 14 mila abitanti un paio di milioni di abitanti Milano per esempio l'ultimo bando potevano presentare fino a 20 milioni di richieste noi che non siamo neanche città capoluogo fino a 10 poi alcuni fanno le battute perché sono più bravi dall'altra parte non è che sono più bravi hanno canali privilegiati che noi non abbiamo e questa è un'ingiustizia perché si deve tener conto delle popolazioni e non del titolo capoluogo per le opportunità noi le abbiamo colte quasi tutte al 100% no ovviamente perché sarà impossibile cogliere tutte ma abbiamo già raccolto quelle occasioni in cui ci siamo presentati l'ultima avevamo un budget potevamo chiedere fino a 10 ne abbiamo colte 8 milioni ma i due rimanenti li richiederemo a marzo quindi anche lì lo coglieremo al 100% un'altra telefonata per lei buonasera con chi parliamo ci sente si la sento buonasera è qua che l'ascolta prego pronto si si l'ascoltiamo prego buonasera senta io sono di Milano e vengo vengo a Fano utilizzando il treno si e trovo quel marciapiede che dalla stazione va al centro si quel tratto di marciapiede indecente pieno di buche è marciapiede che praticamente è ecco sì sotto sì sì ho presente sotto Sangallo sotto le mura Sangallo mi chiedo saranno 200 metri non più 200 metri è anni che in quelle condizioni sì ha perfettamente ragione dovevamo farlo lo scorso anno era abbinato ad un altro lavoro che poi non è stato realizzato però va sistemato stiamo predisponendo il progetto visto che ci siamo parliamo di stazione dico due cose anche della stazione perché ho già avuto modo di parlare con RFI abbiamo avuto anche delle call c'è una programmazione di una serie di interventi tra cui la riqualificazione di intervento alla stazione prevista per il 2023 stiamo ragionando di poterla anticipare sto insistendo però sono quei sono quegli interventi che seguono il filone che c'è stato a Riccione ISI si chiamano stazioni ISI ci sono già le risorse destinate quindi 2023 ci sarà un intervento di riqualificazione della stazione di Fano che si aggiunge ad altri lavori che inizieranno a breve e che si ultimeranno nel 2024 quello dei sottopassi di Via Nazario Sauro e di Viale Cheiroli ok ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo a leggere i vostri messaggi Siamo di nuovo in diretta Sindaco le chiedono la strada delle barche Sì su questo abbiamo il progetto esecutivo stiamo aspettando questo balletto tra regione e ministero per il decreto dell'affidamento delle risorse che ci sono però mi dicono che siamo alla fase finale dopo tanti anni perché anche questa è una storia infinita però dovremmo esserci e qui c'è un milione e mezzo che prevede l'intervento all'interno dell'ex pista dei Cocard tutta Viale Ruggeri Visti i prezzi del gas perché non si parla più di biodigestore i nostri rifiuti organici li sfrutta la Romagna Ma penso che si parli anche troppo forse il tema vero è che si parla poco di contenuti veri e si fa molta discussione politica e con rischio poi di perdere di vista quello che è il tema vero che è l'efficienza e il risparmio le prossime sfide per quello che riguarda il biodigestore per quello che riguarda Fano c'è questa manifestazione di interesse che è stata presentata hanno partecipato sono costato quattro manifestazioni adesso la commissione sta esaminando i risultati che verranno poi comunicati al Consiglio e in merito ai risultati prenderemo una posizione Abbiamo una telefonata pronta è giusto? Ce l'abbiamo Buonasera chi c'è in linea? Buonasera Buonasera Io chiamo da San Lorenzo in campo sono un dipendente che è andato in pensione dalla Saipa circa 5 anni fa qualche giorno fa sull'Espallino ho letto una notizia che riguardava la Saipa è un invito al sindaco a far sì che Fano non può perdere la grande realtà che dal 1970 insiste sul territorio con tutto proprio le vite satelliti che stanno intorno certo il sindaco non è che può far tanto però quello che da parte mia era come da dipendente messo in pensione di una vita lavorativa che è stata estremamente soddisfacente per me e la mia famiglia quindi lo invito a essere molto molto accorti e a riprendere questa realtà grazie buona serata grazie grazie a lei condivido a pieno quanto appena ha detto Saipem Ex Dan Progetti è una risorsa straordinaria una presenza straordinaria importante nella nostra città che non fa rumore sottile perché lavora con il mondo ma in realtà al nostro territorio non dico soltanto la città di Fano ha portato tanta ricchezza tanti posti di lavori importanti e ha creato un distretto perché poi da Saipem Ex Dan Progetti sono nate nuove realtà anche queste molto importanti che lavorano con il mondo quindi noi siamo sempre attenti fra l'altro io sono in contatto diretto con i vertici fra l'altro stavamo ragionando anche su un intervento a favore di un'iniziativa culturale per la città che purtroppo dopo il commissariamento si è bloccato tutto quanto a quanto sembra insomma non ci sia un problema di carattere finanziario è stato questo crollo in borsa stiamo monitorando ovviamente il comune può stimolare può essere un osservatore attento è chiaro che poi qui parliamo di livelli molto più alti però ecco su questo stiamo in contatto anche con le nostre rappresentanze nazionali le faccio vedere una foto che è stata scattata proprio nei giorni scorsi che riguarda la via Flaminia un incontro importante di che cosa avete parlato qual è il progetto? è recente sabato ci siamo visti i sindaci quasi tutti della Flaminia da Cantiano a Fano c'era il sindaco di Coglio al Metauro di Monte Felcino Sant'Ippolito Fossombrone Acqualagna Cagli e Cantiano l'abbiamo fatto perché noi riteniamo che la via Flaminia sia oltre ad avere un'importanza storica appartenga alla nostra identità ma sia uno strumento straordinariamente importante per valorizzare il nostro territorio e nello specifico ci siamo visti perché stiamo lavorando su un progetto di arte contemporanea che dialoga con il classico che vuole dialogare con le presenze archeologiche della Flaminia ma è stata anche un'occasione per fare il punto per coinvolgere tutti i sindaci per collaborare perché le sfide si vincono se si lavora insieme e ho raccolto un'ampia disponibilità noi faremo la nostra parte come capofila ma con l'ambizione di non fermarci a Cantiano ma di estenderci fino a Roma coinvolgendo a cominciare dall'Umbria e stiamo anche ragionando insieme a loro di intraprendere anche l'istruttore come stiamo facendo per il Carnevale anche per il riconoscimento del patrimonio immateriale dell'UNESCO delle vie consolari quindi un buon incontro che riguarda la promozione che riguarda questa iniziativa culturale specifica ma l'obiettivo è quello noi abbiamo anche non dimentichiamo il centro studio di Vitruviani che sta facendo un lavoro importante anche quest'estate ci saranno novità significative per la città e non solo quindi ecco abbiamo condiviso questa grande opportunità e questa collaborazione e hanno anche ringraziato per questo lavoro che stiamo facendo anche come comune di Fano che si lega anche al grande lavoro progettuale partito appunto da Fano sulla valorizzazione turistica che sta cominciando a dare i suoi risultati Sindaco un'altra telefonata per lei buonasera chi c'è in linea buonasera sono Mancini abito al Porto sì buonasera buonasera volevo sapere siccome ho mandato una PEC verso la metà di dicembre a lei riguardo il degrado della zona Porto in particolare l'asilo il parcheggio dell'asilo Manfrini non so se a presente via della Marina via Caduce del Mare se la scuola è elementare sì no quel parcheggio a parte che ormai l'asfalto è degradato sono buche non ci sono più segni bianchi che le persone parcheggiano in maniera selvaggia già i parcheggi sono buocchi più ci sono gli alberi che ormai cominciano a toccare coi rami in terra sono diversi anni che è in questa condizione sarà il caso di dargli una sistemata una riordinata anche perché lì ci sono dei bambini piccoli poi c'è la scuola il marciapiede della scuola davanti alla scuola gentile è pieno di avvallamenti di buche che si riempiono di acqua sono cose che bisognerebbe dargli una sistemata non so se l'avete in programma io ho mandato ripeto ho mandato una PEC e ci ho messo anche delle foto per segnalare il caso grazie sì no grazie e grazie per questa telefonata adesso le PEC ne arrivano tante dopo il sindaco ovviamente non le legge tutte nei vari assessorati nelle varie competenze però devo dire che sulla zona del porto c'è forte attenzione e forti investimenti ha citato il Manfrini sul Manfrini stiamo per fare un'operazione importante con il Demanio lo riscatteremo come comune stiamo già lavorando sulla progettazione e quello diventerà un bel centro pensiamo ad un museo dedicato alla marineria e quindi che si legherà e dialogherà anche con la passeggiata della Darsena borghese e quindi poi magari anche il parcheggio potrebbe essere compreso stiamo lavorando adesso c'è stato anche un piccolo progetto però significativo di valorizzazione per quello che riguarda i cappannoni con la realtà aumentata insieme a delle associazioni di giovani nella parte dei cantieri del porto ma stiamo facendo un altro lavoro importante che queste risorse destinate per il waterfront dove inizieremo proprio a giorni degli incontri già mercoledì per la parte di Torretta faremo degli incontri con gli operatori per capire focalizzare quali devono essere il primo stralcio di progettazione per poi intervenire sulla scuola gentile parlavo prima dei bandi a cui partecipiamo tra questi è interessata anche la scuola gentile dove ci candidiamo anche per la palestra da realizzare in quella zona sul parcheggio effettivamente io ci passo sulla strada non mi sono mai fermato lì devo essere sincero lo farò nei prossimi giorni quando passerò lì davanti però effettivamente c'è a necessità di alcuni interventi quindi adesso farò fare un sopralluogo per capire quali possono essere se ci sono degli interventi immediati semplici perché se è un intervento complesso ovviamente richiede più tempi adesso abbiamo già programmato un intervento per altri parcheggi importanti che aspettavano da anni però ecco la cosa la prendo presente e andrò personalmente a vedere i prossimi giorni Viale Battisti non è ora di prendere provvedimenti è scandaloso l'accesso al mare togliete i parcheggi e fate i marciapiedi anche Viale Battisti dove 100.000 euro destinati che dovremo realizzare entro il 2023 proprio in questi giorni stiamo affidando l'incarico per la progettazione di tutta Viale Battisti in entrambi i lati quindi diventerà veramente un bel viale Buonasera Sindaco Serre scrivo nome dei turisti che transitano in via San Francesco e che rimangono affascinati dall'ex chiesa di San Francesco e fanno contorsioni sulla cancellata pur di immortalare l'interno chiedo se fosse possibile un'apertura con orario programmato ed una illuminazione delle colonne da terra a cielo per esaltarne la scenografia Fano è bella e va valorizzata Guardi posso dire questo proprio questa mattina sono stato in regione e ho incontrato l'assessore alla cultura perché stiamo lavorando su un progetto molto interessante insieme a me c'erano altri rappresentanti l'assessore Lucarelli alcuni rappresentanti alcune associazioni che ci aiutano su questo progetto quindi stiamo reperendo le risorse perché è un intervento molto bello che sarà di forte attrazione se riusciremo a trovare le risorse sufficienti perché sono importanti da solo come amministrazione non siamo in grado di sostenerle però devo dire già da questa mattina c'è stato un forte interesse ed è un evento che riguarda questa estate per cui ci stiamo provando se riusciamo ad arrivare alla fine trovando le risorse necessarie penso anche chi ha inviato questo messaggio rimarrà molto soddisfatto Da Fenile ci chiedono informazioni sia sull'illuminazione della ciclabile che avevate promesso ma anche sul casellino E aggiungerei della rotatoria perché Fenile insomma da quando mi sono insediato ad oggi abbiamo avuto diversi incontri fra l'altro devo ringraziare anche alcuni cittadini di Fenile che sono adoperati penso a Bizzocchi per citarne uno ma insomma diversi che attraverso le loro associazioni con i gruppi di cittadini si sono impegnati devo dire le risposte sono arrivate con la realizzazione della pista ciclabile interventi sulla piazza sulle strade ci eravamo impegnati anche per l'illuminazione l'illuminazione è già stata stanziata c'era stato un piccolo problema con la ditta che aveva vinto mi hanno detto proprio questa mattina che il problema è stato risolto quindi a breve partiranno i lavori per l'illuminazione c'era un altro impegno per la rotatoria stiamo per stipulare la convenzione dove noi coparteciperemo col 50% quindi progetteremo che il preliminare è già stato fatto progettazione per protocollo progettazione e poi gara e noi parteciperemo col 50% delle spese per cui l'incrocio che insomma è un incrocio pericoloso per quello che riguarda il casellino ovviamente qui un ruolo lo gioca società autostrade la regione noi abbiamo in più occasioni stimolato sono andato sia a parlare in regione sia sono andato a parlare col vice ministro mi hanno detto insomma che il casino si farà anche perché noi abbiamo io ho sottoscritto un accordo nel 2015 per realizzare le opere compensative ho stralciato in quell'accordo per poter consentire la realizzazione perché altrimenti saremmo ancora qua a discutere delle opere che abbiamo già inaugurato ma ho solo rinviato perché allora ci fu il diniego del ministero dell'ambiente sul precedente casello invece il nuovo casellino sia dove è strutturato sia per le dimensioni non trova l'opposizione della sovrintendenza per lo meno sulle intenzioni perché poi i pareri si esprimono sui progetti esecutivi e definitivi però ci sono stati dei passaggi preliminari quindi non so dire le tempistiche ma verrà realizzato anche perché altrimenti non si potrà definire chiuso l'accordo stato-regione che prevedeva le opere compensative realizzate ma anche il casellino il casello fanno nord via spromonte centinarola è diventato quasi impossibile transitare per tornare alla propria abitazione per le troppe auto parcheggiate dei due lati ci ha spiegato che questo è un problema soprattutto anche per l'ambulanza tant'è che una ha ritardato di 15 minuti e quando si tratta di salute ogni minuto è fondamentale e chiedono insomma di risolvere questo problema volevo chiederle anche perché ci sono arrivati diversi messaggi lo stato di progettazione della ciclovia del metauro quali sono le le qualità qui non c'è questi sono quei temi molto discussi noi abbiamo non stipulato ma abbiamo approvato l'adesione di un protocollo con la regione che ha rivisto il progetto iniziale che noi come comune vogliamo che è la ciclabile che fiancheggia il tratto ferroviario che la nuova regione non ritiene nelle sue corde quindi non vuole realizzare quel tipo di ciclabile quindi abbiamo sottoscritto ancora ripeto abbiamo approvato in giunta questo protocollo che prevede 3 milioni e 9 di piste ciclabile che partono dalla statale che arrivano fino a Ponte Murello a confine con Cartoceto la prima parte prevede dei tratti direi anche belle con un ponte che attraverserà via Papiria il canale e la superstrada quindi voi capite che cosa significa questo collegare il nuovo parco con Sant'Orso fino a Bellocchi poi da Bellocchi si riaffianca alla ferrovia mentre per la parte diciamo più a Est noi ci impegniamo come amministrazione a realizzarlo noi stiamo affidando un incarico per la progettazione della fattibilità però qui c'è un però attendiamo di conoscere l'esito dello studio che RFI ha fatto fare su quel tratto perché come sapete al di là delle chiacchiere che facciamo tutti quanti per poter intervenire poiché parliamo di sedime di proprietà di RFI dobbiamo essere autorizzati da loro però ecco noi ci stiamo attrezzando in questo senso via Barietti zona Rosciano dalla ferrovia in via Galileo Galilei non esiste la tubazione delle acque nere ci dicono che l'enne ha il corrente i residenti hanno il pozzo a perdere quindi inquinano altro messaggio segnalazione per evitare il contenuto il continuo attacco di qualche rappresentante dell'opposizione non sarebbe il caso di fare chiarezza sul mancato completamento della vasca di raccolta al Lido c'è poco da fare chiarezza la cosa è semplicissima il lavoro è terminato però non è entrato in funzione finché non si collegano le pompe per collegare la pompa Enel deve realizzare la centralina che realizzeremo noi fra l'altro occorre solo il tempo materiale per gli allacci penso due mesi occorreranno per il resto tutto il lavoro è finito problematiche particolari non ce ne sono c'è solo questo se qualcuno dice poteva finire prima sì però insomma anche su questo vorrei dire è un problema che lì da 40 anni noi lo stiamo risolvendo se ci impieghiamo tre mesi in più penso che possa essere comprensibile a proposito di scuole sarebbe necessario dare una bella ripulita al greppo sottostante la scuola primaria di Fenile in via del castello ci sono rami e rovi che arrivano fino alla strada poi si annida di tutto e non è un bel vedere per i genitori le chiedono anche di verificare di persona il pericolo che si corre nell'immettersi nella rotatoria di località Forcolo da Rosciano verso via Papini e quindi via 4 novembre la visuale scrivono è completamente inibita dai pannelli frangirumore applicati in prossimità della rotatoria quindi provenendo dalla strada nazionale Flaminia è veramente pericoloso poi magari se non la conosco bene anche lì abbiamo dato abbiamo dato un incarico fra l'altro anche con le nuove ciclabili interverremo anche in quella zona chiudiamo con questa perché poi abbiamo pochi minuti a disposizione buonasera sindaco vogliamo sapere per quale motivo arrivano multe da Andreani i tributi sull'errato pagamento dell'Atari intanto le chiedono errato deciso da chi e poi se aiuta veramente a capire se è errato visto il periodo di grande difficoltà economica di tante famiglie e la difficoltà di anziani a capire la fregatura non ci potete mettere a disposizione un aiuto perché dobbiamo sempre solo pagare a prescindere questo purtroppo sta riguardando diversi fanesi sì non sono numeri elevati questo va detto però ha ragione nel senso vanno anche aiutati ovviamente oggi con le nuove tecnologie ci sono controlli incrociati tra il catastro le amministrazioni quindi si fanno dei confronti e quando questi non corrispondono poi partono queste verifiche poi per carità possono esserci anche degli errori in alcuni casi si tratta veramente di differenze minime e di piccolissima entità però ecco il richiamo che fa mi sento di condividerlo perché non possiamo sempre lasciare giustamente solo il cittadino dobbiamo anche andare incontro per le verifiche perché altrimenti ogni azione ha un costo e non è che possiamo sempre sostenerle tutte quindi adesso cercherò di capire come poter andare incontro a queste esigenze per fare le verifiche in modo particolare per quelle più sostanziose che ripeto non sono tante sono poche a dire la verità però ci sono e quindi è giusto farlo Sindaco io credo di avere oltre 100 messaggi che purtroppo non sono riuscita a leggere mi scuso con tutti voi però la diretta dobbiamo terminarla qua un ringraziamento alla nostra regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra Sindaco grazie per essere stato nei nostri studi e le invito a ritornare fra un mese così cerchiamo di smaltire tutti i messaggi che questa sera non abbiamo letto insieme grazie a voi grazie ai cittadini che ci hanno seguito ai cittadini che hanno chiamato perché al di là alcune volte delle arrabbiature però è un incontro importante quando c'è attenzione c'è anche una fiducia nel provare a risolvere le questioni è utile anche per me perché è vero un sindaco conosce molto bene la propria città io sono penso di conoscerla però non si ha sempre il controllo completo di tutto alcune cose possono sfuggire e quando sono più occhi e ci parliamo ci aiutiamo perché alla fine ci si aiuta anche anche con la critica costruttiva per cui grazie veramente a tutti grazie di nuovo al sindaco di Fano Massimo Seri grazie a tutti voi per averci seguito arrivederci a domani grazie a tutti